Dove siamo? E' del camp! Anti Medusa! Ciao Palma! Le ragazze di Albisola! Le ragazze? Le ragazze di Albisola! Come sei te? Marta! Marta! Rosy! Ma si! Ma si che fai il poporone! Sono tutte le rude! L'Anna! E' l'Anna! E' perché anche la Anna! Andiamo, andiamo! Alcivedere Albisola! Albisola! Siamo in Torcerna! Bellissimo! Dedicate ai cementisti! Faccio l'Italia! Dedicate ai cementisti! Ok! Che scemo! Che scemo! Mamma mia che mascarina! Un po' c'è ciappia! No! Un po' c'è ciappia! No ma è un bello facendo! No ma è un po' ciappia! No ma è un po' ciappia! Non c'è ciappia! Allora! Cos'è un po' ciappia! ricordiamo che non vediamo non vediamo non vediamo calma non vediamo vai non vediamo vediamo vai tranquillo vai tranquillo che fai a vederla tu vai di là Enrico certo che ci sono anti medusa vedremo no siamo di arrivo non sono pescicani non sono pescicani è vero? me è freddo me è freddo come facciamo? bicarbonato anti medusa andiamo dalla nonna andiamo dalla nonna qui sotto vedete che faccio anche un finotto io grazie Lodi anti medusa andate mamma mia sono grave la tutina anti medusa adesso la mettiamo un po' di asciugare non far fare la cara che ti va di più dove vai? ma tocciamo domani a prenderla sono ammigliato il gruppo di anti medusa il gruppo di anti medusa il gruppo di anti medusa di anti medusa il gruppo di anti medusa sono ammigliato qui è stato un po' di più